Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti crumiri con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 18 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, zucchero semolato, burro, miele millefiori, uova, vanillina, sale e gocce di cioccolato. Viamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo momentaneamente da parte le gocce di cioccolato che ci serviranno successivamente quando l'impasto sarà quasi pronto. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10. Finiamo lo zucchero sul fondo del boccale, aggiungiamo il burro, pizzico di sale, la farina, le uova, la vanillina e il miele. azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. A questo punto riprendiamo le gocce di cioccolato e versiamo all'interno e facciamo amalgamare per 20 secondi con l'antiorario a velocità 3. Il composto è pronto trasferiamolo in una tasca da pasticcere priva di beccuccio. dopo aver riempito la tasca da pasticcere e rivestito con carta da forno una teglia stiamo preriscaldando il forno a 200 gradi e adesso andremo a formare dei bastoncini. adesso con i rebbi di una forchetta richiamo i bastoncini e poi li curviamo. adesso cuociamo in forno preriscaldati a 200 gradi per 10 minuti circa. i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia e servirli. biscotti crumiri con gocce di cioccolato grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti